L'ex comandante Paolocci smentisce di essere indagato ma ci sarebbero altre 5 persone coinvolte nell'inchiesta della procura per l'elevato numero di appalti ad affidamento diretto avallati dal dirigente, tutti sotto la soglia dei 40 mila euro, 235 su 261 controfirmati dall'ex comandante in poco più di un anno. I cinque sarebbero una dipendente di Palazzo Moroni e quattro responsabili di altrettante aziende che si aggiudicarono gli appalti diretti. La procura di Padova indaga, sollecitata a farlo anche dai vari esposti presentati dall'ex responsabile politico dei vigili urbani padovani, l'assessore alla sicurezza della giunta Bitonci Maurizio Saia. Paolocci lo scorso novembre ricevette un avviso di garanzia per abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e induzione in debita a promettere o dare utilità.